Le procedure amministrative necessarie per il riavvio della produzione nello stabilimento Sidera Lois di Portovesme sono state esaminate ieri nel corso dell'incontro che si è svolto all'assessorato del lavoro tra la Regione, l'azienda e le organizzazioni sindacali. Alla riunione hanno partecipato gli assessori del lavoro Alessandra Zedda, dell'industria Anita Pili, dell'ambiente Gianni Lampis e della sanità Mario Nieddu. Nel corso dell'incontro sono state esposte le principali criticità che allo stato attuale non consentono ancora la via del cantiere per l'effettuazione dei lavori di ripartenza dell'impianto. La conferenza dei servizi decisoria potrà essere convocata solo dopo l'acquisizione dei documenti fondamentali ancora non trasmessi alla Regione Sardegna. Entro il 25 settembre l'iter potrebbe essere completato. L'ospicio comune è che il rapido espletamento delle procedure possa consentire di non ricorrere alla cassa integrazione ipotesi ventilata dall'azienda. Un nuovo incontro è stato fissato per il prossimo 30 agosto.